messaggio divino e una luce per il santo cammino 26 9 2021 seguite e non temete se la gloria di dio voi volete bisogna operare il bene se il bene volete che viene non odiare se no troppo il cielo si deve contemplare dio è solamente amore a che serve essere fedele se poi nel cuore si è crudele vi ripeto dio è solo amore ma troppo duro è il vostro cuore i tempi sono arrivati ma pochi i risultati vi benedica la mano di dio onnipotente e che lui guida su tutti i continenti beati puri di cuori perché vedranno dio amén alleluia